Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio di Fare Self, la rubrica che ogni venerdì risponde alle vostre domande su self-publishing, scrittura e promozione editoriale. Oggi continuo la risposta che ho iniziato a dare nell'episodio precedente ed oggi trattiamo come l'ultima volta di traduzione dei vostri libri. Quindi, nell'episodio, vi ricordo che questa è la seconda parte di una serie di due, nell'episodio precedente ho parlato di come tradurre gratuitamente il vostro libro usando certe particolari risorse e in questo episodio invece tratto di come tradurre un libro a pagamento, quindi dietro pagamento, come se ci sono delle risorse o delle persone che possono aiutarvi a tradurre il vostro libro professionalmente in un'altra lingua. Io voglio riprendere la domanda che ci ha fatto Isabel da extravergindautore.it che ci chiede, vorrei qualche ulteriore consiglio, indicazione e esperienza sulla traduzione dei libri per il mercato estero. Quindi, vi ricordo, questa è la seconda parte di una serie di due, nella prima parte ho trattato di come tradurre un libro gratuitamente, in questa parte vi darò delle risorse o modi per farlo professionalmente a pagamento. Vi ricordo anche che siamo ancora all'interno del periodo finestra di una promozione riguardante questi video, chiunque commenta i video di fare self qui su YouTube, quindi che mette una domanda di qualsiasi genere riguardante self publishing o promozione editorale, potrà avere la possibilità per un periodo limitato di ricevere una copia del mio libro, confessione di un autore indipendente che è praticamente una storia su come ho iniziato il mio viaggio di autore indipendente, i miei primi 100 giorni e di come ho costruito la mia piattaforma online. Quindi commentate per avere la possibilità di vincere una copia di questo libro. Ora, la risposta che diamo a Isabel, prima di tutto voglio consigliare un paio di piattaforme che io conosco, sono delle piattaforme dei siti internet, il primo sito si chiama proz.com, il secondo è appwork.com e sono queste piattaforme con cui si possono assumere tra le altre persone traduttori, ma in realtà anche freelancer che fanno qualsiasi cosa, ma in questo caso mi soffermerò particolarmente sui traduttori. In pratica sono delle piattaforme in cui potete contattare delle altre persone dopo aver visto il loro profilo, accertarvi ovviamente che sono quello che dicono di essere, e in pratica se volete farvi tradurre un libro potete inviare un estratto a queste persone, quindi un estratto di prova da 500-1000 parole, insomma un piccolo estratto, e i traduttori o le traduttrici potenziali potranno rispondere al vostro annuncio, oppure voi stessi potete guardare i profili di questi potenziali traduttori e decidere magari di mandargli un messaggio privato. A quel punto, una volta che avete magari trovato un madrelingua su queste piattaforme a cui dare il vostro libro da tradurre, dovete ovviamente fare in modo che la qualità di questo libro sia effettivamente come questo traduttore dice, quindi dovete magari vedere le prime dieci pagine, fare un tipo di controllo anche approfondito di come avviene la traduzione. Io conosco personalmente altri autori indipendenti che hanno utilizzato con successo questa piattaforma, si trovano delle persone professionali che sanno fare il loro lavoro, ovviamente però vi ricordo dovete fare le vostre ricerche, non dovete assolutamente fermarvi alla prima persona trovata, dovete controllare il loro profilo, dovete testare le abilità di queste persone e solo dopo fare la vostra scelta. Se trovate una traduttrice o un traduttore, io vi consiglio di orbitare, di avere come misura di riferimento un numero che poi può variare anche molto, ma che potrebbe essere 0.05 centesimi a parola, questo ovviamente non è un dogma, può variare, ma secondo me se avete in mente questo benchmark, questo punto, potete capire poi se quel tipo di traduttore o traduttrice è un professionale, o sta vi stai chiedendo troppo, troppo poco, è un buon benchmark, è una buona misura di riferimento che è stata utilizzata anche da altri autori indipendenti per trovare un traduttore serio del proprio libro, della propria opera. Quindi il primo punto, la prima risposta, la prima risorsa è usate siti come prox.com e Upwork per trovare e cercare dei professionisti che possono tradurre dietro al pagamento ovviamente il vostro libro, le vostre storie. Il secondo metodo per tradurre i vostri libri è contattare privatamente persone fidate o che conoscete. Ora, che cosa intendo con persone fidate o che conoscete? Preferibilmente devono essere dei traduttori bilingue, quindi che sanno sia l'italiano che la lingua in cui volete tradurre il vostro libro. Devono sapere quindi scrivere bene la lingua di destinazione, ma anche devono essere in grado di cogliere le sfumature della lingua di partenza. Io posso farvi un esempio mio personale, qui non si tratta di traduzione ma di editing, e io quando si è trattato di fare l'editing di un mio libro che ho tradotto dall'italiano all'inglese, prima di tutto ho cercato una persona bilingua, quindi che sapesse sia l'inglese, che era la sua madre lingua, ma che sapesse anche molto bene l'italiano. Questa era una persona che era nata nell'area di New York, adesso vive a Roma di diversi anni, quindi sa parlare molto molto bene entrambe le lingue, sa cogliere le sfumature anche della lingua italiana. Ecco, questo è il tipo di persona che voi volete trovare, dovete cercare una persona bilingua, che sia seria, che sia brava nel suo lavoro, e che non vi dia niente, che non sia almeno un prodotto competitivo e professionale. Quindi il secondo metodo è contattare privatamente persone fidate e che conoscete, se avete la fortuna di conoscere delle persone che parlano bilingue, o anche persone che conoscono persone. Quindi chiedete in giro, girate la testa, non vi fermate al vostro circolo di amici, chiedete ad amici e amici se conoscono e sanno di persone bilingue che offrono servizi di traduzione. Molto molto importante, potreste essere molto molto sorpresi dai risultati. Terzo tipo di risorsa e di metodologia, chiedete ad altri autori indipendenti. Questa è una cosa importantissima. Siamo in una delle province che mi piace sottolineare di più, autori indipendenti, devono aiutarsi a vicenda. Questo è uno dei metodi in cui aiutarsi a vicenda. Ci sono tantissimi autori indipendenti che in questo momento hanno già utilizzato dei metodi per tradurre indipendentemente i loro libri, dovete solo trovare queste persone e chiederglielo. Come trovare queste persone? Io vi consiglio di farlo attraverso dei forum, blog, ma soprattutto anche gruppi Facebook che sono più attivi, ho notato, dalla tipologia di community indie. Quindi una volta che siete entrati in un gruppo Facebook, chiedete ad altre persone, ad altri autori indipendenti, la loro esperienza e se hanno dei consigli. Se non conoscete nessun gruppo Facebook da cui partire, io ve ne segnalo uno, si chiama Self Publishing Italia, è curato dall'autore Gabriele Dolzadelli, e è un gruppo molto seguito, dove ci sono oltre un migliaio di persone interessate a pubblicare, indipendentemente questo potrebbe essere un metodo, una mitologia, una risorsa, un canale da cui partire poi per iniziare le vostre ricerche. Ma non fermatevi a nient'altro che non sia un ottimo, ottimo bacino in cui voi inserite diverse alternative e solo dopo aver contattato diverse persone prendete la vostra scelta. dovete essere entrati quindi in diversi gruppi, magari forum, blog, community Facebook, e aver chiesto a diverse persone, aver contattato diverse potenziali persone, quindi non fermatevi al primo trovato, per capire esattamente se quel traduttore o quella traduttrice fa davvero per voi. Quindi, terzo metodo, metodologia, chiedete ad altri autori indipendenti, chiedete ad altri autori indipendenti di segnalarvi o di consigliarvi a persone che possano tradurre professionalmente il vostro libro. Ora, queste sono le risorse che volevo darvi. Volevo chiudere questo episodio su come tradurre a pagamento il vostro libro con un consiglio che mi è stato dato da un altro autore indipendente che traduce libri. E questa persona mi ha detto che in generale sarebbe meglio, secondo lui, escludere le agenzie. E le agenzie perché questi intermediari al massimo fanno appunto da canale, da bacino, da tramite intermediario verso magari persone che non conoscete, quindi possono essere chissà chi, le persone che stanno dall'altra parte, magari non sono dei madrelingua. Questo è un consiglio che mi ha dato lui, in generale, di escludere le agenzie perché al massimo fanno solo da intermediari verso chissà chi, anche traduttori che non sono madrelingua o bilingua. Quindi tenete a mente questo consiglio, questo tip. Ora, come sempre, chiudo segnalandovi una risorsa che potrebbe esservi utile se siete interessati a tradurre il vostro libro. Sono un pezzo di un'intervista che io ho fatto con Rita Carla Francesca Monticelli sul mio podcast Credi Crea e dal minuto 16 e 42 secondi Carla discute del modo in cui ha tradotto il suo libro, dà dei consigli, delle tips, secondo me molto ma molto utili ad autori indipendenti che sono interessati a tradurre il loro libro in altre lingue. Siamo giunti dunque alla conclusione di questo episodio di Fare Self. Vi ricordo che il prossimo episodio sarà pubblicato di venerdì, ogni beledì c'è un nuovo episodio della rubrica Fare Self. Vi do un appuntamento alla prossima volta, vi auguro un'ottima giornata e vi saluto per questo momento. Ciao!